Anche quest'anno il Centro di Analisi Sociale della provincia di Teramo ha prodotto il Rapporto Sociale 2010, elaborato che annualmente fotografa la situazione sociale della nostra provincia, con focus specifici di indagini sulle tematiche sociali più rilevanti. A differenza dello scorso anno, in cui il tema era costituito dal fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale, il Rapporto 2010 dedica particolare attenzione al disagio giovanile. Credo che questo sia quindi una dimensione su cui effettuare investimenti particolarmente significativi, attraverso l'incentivazione delle imprese femminili, anche questo è un aspetto positivo che si manifesta nella realtà terramana. Veri e propri investimenti che devono vedere insieme le istituzioni locali e le imprese stesse, le associazioni delle imprese. Non è possibile in qualche maniera venire fuori dalla situazione di difficoltà, rispetto alle quali poi devono intervenire i servizi sociali, se non c'è un impegno concorrente, convergente dei diversi attori dello sviluppo economico e sociale locale. La nostra provincia, la provincia di Terno, nonostante i minori arrivi sia dalla vendita delle auto che minori entrate da parte dello Stato, che sommano a 4 milioni di euro, nonostante tutto io ho aumentato la spesa per il sociale, quindi da 720 mila euro per il trasporto e assistenza di sabili nel bilancio dello scorso anno, quest'anno l'ho portata a 860 mila euro, quindi io non ho nessuna intenzione di tagliare sul sociale, ma di dare dei servizi di qualità a dei ragazzi che ne hanno effettivamente bisogno. La provincia ha attivato di nuovo 166 tirocini e quest'anno per la prima volta i soggetti ospitanti non saranno gli enti, saranno proprio le aziende, perché la dottoressa Guardiani e noi come giunta è giusto che sia così, perché bisogna dare la possibilità, cioè lo scopo è quello che un tirocinante va in un'azienda, il proprietario dell'azienda vede le capacità del ragazzo e lo inserisce nell'ambito lavorativo. Ciò che non può avvenire negli enti con la legge famosa di Brunetta che impedisce le assunzioni.